La Panda raggiunge un altro record, 7 milioni e mezzo di vetture vendute nella sua storia, Panda è il leader in contrastato del segmento in Europa ed è anche la vettura più venduta sul mercato italiano. Insieme a Wind vogliamo raggiungere un altro record che è quello di fare di Panda la vettura più connessa e più social del mercato. Come abbiamo fatto? Abbiamo lavorato con Wind, abbiamo integrato nel mobiletto centrale della vettura un router Wi-Fi che appunto permette la connessione a Wind e permette di offrire ai nostri clienti 50 giga al mese inclusi nel prezzo e la possibilità di connettere contemporaneamente 15 persone. Quindi una connettività praticamente illimitata e in perfetto stile Fiat, quindi semplice, intuitiva e molto generosa. Fabio Rovazzi è il nostro testimonial da più di un anno su Fiat Panda. Quando Wind ci ha contattato per condividere il testimonial eravamo piuttosto dubbiosi, ma poi ci siamo seduti al tavolo e insieme abbiamo capito che potevamo creare qualcosa di nuovo sul mercato, non solo dal punto di vista di prodotto ma anche nella parte di comunicazione. Fabio ha avuto una parte rilevante in tutto questo. Fiat e Wind sono due marchi che hanno nella loro missione la volontà di risolvere le problematiche quotidiane della gente comune in modo semplice e poco costoso. Questo è il concetto che è piaciuto a tutti, è piaciuto tanto anche a Fabio e da qui la nuova campagna di lancio.